Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova lezione di biologia. In particolare questo argomento è di biologia molecolare, perché abbiamo a che fare con DNA ed RNA. In questa lezione in particolare vedremo come è fatta la molecola dell'RNA, le differenze con il DNA, ma vedremo poi la fase di trascrizione del DNA e la sintesi delle proteine. Perché parleremo di sintesi delle proteine? Perché le proteine sono delle particolari molecole presenti al nostro corpo e hanno una specializzazione. Il loro compito è quello di andare a regolare alcuni nostri caratteri e la funzione delle nostre cellule. Che legame c'è tra le proteine e il DNA? Il DNA contiene le informazioni necessarie per poter costruire le proteine. E queste informazioni si trovano all'interno dei geni. Quindi ogni gene ha il compito di costruire una specifica proteina, che serve poi per andare a produrre uno dei caratteri del nostro corpo, ad esempio il colore degli occhi. Questo processo di costruzione delle proteine si chiama proprio sintesi delle proteine. Andiamo a vedere chi si occupa di questa sintesi delle proteine. Questo processo avviene in varie fasi e coinvolge una molecola diversa dal DNA, simile al DNA ma con alcune differenze. Questa molecola si chiama RNA. Vediamo il confronto. Intanto già dall'immagine potete vedere la differenza, perché l'RNA è costituito da un solo filamento di nucleotidi, mentre il DNA ne aveva due, ne ha due. Per quanto riguarda le basi azotate, l'RNA ha l'uracile al posto della timina, quindi come simbolo vedrete la lettera U al posto della T. Terza differenza, l'RNA è costituito dallo zucchero ribosio e non dal desossiribosio. Per quanto riguarda l'RNA in generale, ne esistono vari tipi. Il primo che andiamo a vedere si chiama mRNA. M minuscolo significa RNA messaggero. Messaggero perché ha il compito di portare le informazioni del DNA e quindi trasportarle in modo tale da poter costruire le proteine necessarie. Queste informazioni quindi le prende dal DNA e le trasporta al citoplasma della cellula, perché il DNA è contenuto nel nucleo della cellula, mentre la sintesi delle proteine avviene, proprio l'assemblamento, quindi quando vengono messe insieme le proteine, avviene invece in un organello cellulare presente nel citoplasma. Quindi è per questo che l'RNA messaggero deve fare questo trasporto di informazioni. qui potete vedere meglio le varie differenze, quindi un solo filamento e abbiamo qui l'uracile come base azotata al posto della timina. Quindi l'RNA fu costituito dal ribosio, mentre il DNA dal desossiribosio. Passiamo a vedere adesso allora la fase di trascrizione del DNA. Quando è necessario costruire una certa proteina, il DNA si apre, come abbiamo visto nella lezione precedente, come se fosse una cerniera lampo, e si apre soltanto nel punto in cui è presente il gene che contiene le istruzioni per costruire quella proteina. Quindi siamo in questo momento all'interno del nucleo della cellula, dove si trova il DNA. E proprio qui il DNA si apre nel punto in cui c'è questo gene che contiene le istruzioni. A questo punto il filamento di DNA che adesso è aperto, quindi abbiamo due filamenti separati, sarà lo stampo per creare una copia della sequenza ordinata dei nucleotidi. quindi nel momento in cui si apre, dove si trova la G, si crea la C, quindi si crea la coppia G-G. Dove c'è la A, si crea la coppia AU, non AT, perché abbiamo detto che al posto della timina c'è l'uracile. Queste istruzioni che sono contenute nella molecola di mRNA, quindi l'RNA messaggero, sono adesso scritte con un linguaggio diverso, e quindi c'è stata una trascrizione rispetto al linguaggio che c'era invece nel DNA. Quindi questa fase di copiatura del DNA in RNA si chiama proprio trascrizione del DNA. Quindi ripetiamo, la trascrizione del DNA è la fase di copiatura del DNA nel linguaggio dell'RNA, quindi mettendo al posto della timina l'uracile. In questo momento poi, quando il filamento di RNA messaggero si è formato, si stacca dal DNA, esce dal nucleo della cellula e va nel citoplasma, sempre della stessa cellula ovviamente. Mentre la doppia elica del DNA va a richiudersi, nel punto in cui si era aperta per permettere la trascrizione del DNA, e quindi abbiamo nuovamente i due filamenti del DNA uniti, come nella fase precedente rispetto alla trascrizione. A questo punto abbiamo l'RNA messaggero che si sposta nel citoplasma perché deve andare a raggiungere il ribosoma. Quindi passiamo alla fase della costruzione, ossia della sintesi delle proteine, che avviene proprio all'interno del ribosoma. Quindi il ribosoma è come se fosse la fabbrica della proteina, quindi proprio dove viene assemblata. Allora, vediamo quali sono i passaggi. Abbiamo l'RNA che esce dal nucleo della nostra cellula e va ad attaccarsi al ribosoma. Facciamo però un passo indietro, ripassando cos'è una proteina. Una proteina è una sequenza di amminoacidi che possono essere o prodotti dal nostro organismo oppure introdotti tramite l'alimentazione. E ne esistono 23 tipi. L'RNA di trasporto, quindi TRNA, ha come compito quello di trasportare gli amminoacidi fino ai ribosomi perché ovviamente tramite questo trasporto giungono all'organello, quindi al ribosoma, che si occupa dell'assemblamento delle proteine e quindi si riescono a costruire le proteine necessarie. L'RNA messaggero scorre all'interno del ribosoma e il ribosoma è a sua volta costituito da un altro tipo di RNA chiamato RNA ribosomiale, ossia del ribosoma. L'RNA di trasporto a questo punto si aggancia all'RNA messaggero perché c'è proprio la sequenza di riconoscimento che è formata da tre basi azotate e in questo modo si riconoscono e si riescono ad agganciare. Dopo questa unione tra RNA di trasporto e RNA messaggero, l'amminoacido viene rilasciato. Questa fase è una fase di traduzione perché avviene una traduzione da nucleotidi presenti nell'RNA ad amminoacidi. A questo punto questa parte degli amminoacidi si va ad attaccare alla sequenza più lunga e in questo modo poi si stacca la proteina che si ripiega su se stessa come vedete qui nell'immagine perché la tipica struttura della proteina è proprio questa forma tridimensionale. Quindi possiamo fare un riassunto dicendo che il DNA viene trascritto in mRNA e poi successivamente tradotto in proteine. Quindi si parla di trascrizione e traduzione e si parla di sintesi ossia costruzione delle proteine. Quindi in questa lezione abbiamo visto come vengono costruite le proteine e nella prossima lezione continueremo il discorso riguardante gli amminoacidi parlando del codice genetico e delle mutazioni genetiche. Quindi vedremo da cosa sono causate e cosa sono queste mutazioni.